Dopo il grande successo dell'edizione 2013 della Passione di Cristo in Contrada Buratto Lentino, l'associazione Don Primo Minnoni ha organizzato un pranzo con i volontari che si adoperano per realizzare la sacra rappresentazione. L'associazione, nata nel 2005, porta il nome del sacerdote che per primo realizzò la narrazione artistico-religiosa. Formalmente a 9 era 20 iscritti, ma nella realtà la partecipazione attiva di professionisti ed appassionati va ben oltre questo numero. Il grande ed intenso lavoro che c'è dietro la ricostruzione scenica della Passione è frutto principalmente di un impegno volontario degli abitanti della Contrada, aiutati dai amici delle zone limitrofe. Negli anni l'importanza e la portata dell'evento sono andate sempre crescendo, insieme al numero degli impegni necessari per affrontare le molteplici difficoltà di carattere organizzativo, logistico e soprattutto economico. Per questo, durante il pranzo, gli organizzatori hanno chiesto alle persone presenti e anche a tutti i tesserati di coinvolgere altre persone sensibili all'evento a sostenere l'associazione. Per sottolineare la rilevanza che è andata assumendo la rappresentazione a vanto della città di Tolentino, citiamo brevemente alcuni momenti significativi della storia di questi 12 anni. Allora, nel 2005 il filmato della quarta edizione è stato proiettato a Taranto, come finalista della prima edizione del premio Taranto Cinema, fra i documentari aventi per soggetto i riti della Settimana Santa. Alcune riprese filmate della settima edizione nel 2008 sono state utilizzate da Voyager per realizzare il documentario Il Sudario di Cristo, una ricostruzione storico-scientifica del Telo di Oviedo mandata in onda su Rai 2 il 18 marzo 2009 in prima serata. Durante la Quaresima del 2009 fu allestita un'apprezzata mostra fotografica nel chiostro della Basilica di San Nicola. Nel febbraio 2010 la Passione di Cristo alla contrada bura di Tolentino è stata ammessa a Europassione per l'Italia e nel gennaio 2012 il presidente Flavio Sialino ha tenuto una conferenza nella sala Fusconi di questa basilica dal titolo Passione di Cristo e territorio di Tolentino. Quest'anno si è cercato di ampliarne la visibilità attraverso la diretta televisiva curata da Videotolentino che raggiunge gran parte della regione. Chiunque si recchi a vedere la Via Crucis o anche non si recchi potrebbe sottoscrivere giustamente la tessera da soggio, da aderente per sostenere una cosa che fa parte delle nostre tradizioni perché pur nella povertà, nella difficoltà quotidiana quanti soldi si sprecano per cose meno importanti di queste? Chiunque si è interessato a sottoscrivere la tessera può contattare l'Associazione Don Primo Minnoni al numero 0733 968 317 Comune ore e testa eyes eyes eye 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 Grazie a tutti